Un provvedimento cautelare di custodia in carcere presso la casa circondariale di Caltagirone per un pregiudicato di giarre di 32 anni Andrea Fazio, eseguito dai carabinieri di Mascali su richiesta della procura di Catania, avrebbe messo a segno una serie di rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali del mascalese di Fiumefreddo di Sicilia. Le indagini, grazie all'esame dei sistemi di videosorveglianza delle attività economiche prese di mira, hanno consentito l'identificazione dell'uomo. Il rapinatore, abituato ad agire in solitaria, raggiungeva i suoi obiettivi a bordo di una vecchia Fiat Punto di colore scuro, risultata poi rubata. Il suo modus operandi era connotato dalla serialità delle incursioni e dall'utilizzo della medesima auto, degli indumenti e delle armi. In particolare una pistola semi-automatica giocattolo, priva del tappo rosso e di un grosso coltello, nonché dalle identiche modalità con le quali si rivolgeva alle vittime, minacciandole di morte qualora non avessero consegnato il denaro. Acquisita come prova a suo carico anche la somma di circa 1000 euro in contanti e un quantitativo di sigarette, frutto dell'ultimo assalto appena realizzato.